Cari amiche, cari amici di Rossini, ben tornati al nostro appuntamento del lunedì sera dal salotto di Fisionadi Medical Center. Abbiamo ospite con noi per la terza volta in Check-up Obiettivo Salute il dottor Riccardo Lucchetti. Dottore, buonasera. Buonasera. Dottor Riccardo Lucchetti, un vero e proprio luminare per quello che riguarda la chirurgia del polso. E partiamo proprio da qui, dottore. Lei ha una lunga carriera alle spalle, ne parlavamo prima di andare in onda. Ha fatto la sua prima relazione ad un congresso, pensi, nel 1979, 45 anni fa. Cos'è cambiato in 45 anni fa? Siamo in un altro mondo, anche per quello che riguarda la chirurgia del polso, vero? Sicuro, sicuro. Da quel periodo lì ad oggi è cambiato tutto. Diciamo che in quegli anni lì cominciava la vera chirurgia della mano, nuova chirurgia della mano. Si basava molto sulla microchirurgia. La microchirurgia era una tecnica, un'arte che ci permetteva di, come si dice, riattaccare le dita. Ma non solo le dita, riattaccavamo le mani. E' facile dire riattaccare, però riattaccare vuol dire connettere le ossa, connettere i tendini, connettere i muscoli, connettere i vasi, connettere i nervi. Se non c'è una vascularizzazione perfetta, la struttura che viene riattaccata non sopravvive, muore. Quindi le mani dei lavoratori, quelli dei lavoratori del legno, che si segavano le dita, si segavano le mani, arrivavano a Modena, molto spesso di sera, tarda sera, dopo tutta la tua attività giornaliera che facevi. Pur essendo giovane, io ero uno dei più esperti in microchirurgia, e lì facevamo questi interventi tutta la nozze di reimpianto delle dita, reimpianto della mano o dell'arto superiore, ma raramente dell'arto inferiore. L'arte tecnica era un'arte che non si creava e non si imparava in 448, io ci ho impiegato due anni. È un'arte che va perfezionata e va anche verificata nella tua qualità, nella tua precisione. Viene fatta in maniera tecnica su degli animali, precedentemente. Tu devi fare delle tecniche di struttura microvascolari e dopo tanti giorni devi andare a rivedere quello che hai fatto per vedere se quello che è perfetto è mantenuto nel tempo. E poi va verificato da un istruttore che ti controlla ciò che tu hai fatto e poi c'è una escalation di tecniche che ti permette di arrivare a fare delle tecniche di struttura di vasi di calibro inferiore al millimetro, con dei fili di struttura che vedi soltanto al microscopio. Quindi l'utilizzazione del microscopio per strutturare queste strutture. Quelli erano i tempi dove è cominciata la microchirurgia. La microchirurgia è stata un avvento fondamentale per poter fare tutta una serie di interventi che poi sono arrivati anche a livello della chirurgia plastica, dei trasferimenti di lembi, di coperture delle strutture. Quello che voi vedete è anche il reimpianto della mano, il trapianto della mano, che è un termine diverso rispetto al reimpianto. Il reimpianto vuol dire che tu riattacchi qualcosa di tuo personale, il trapianto invece lo prendi da un'altra persona e lo trasferisci. Facendo all'arto appunto di queste persone che sono senza mani e devi fare questa struttura microvascolare. Poi di lì tutto quanto è cambiato anche con la chirurgia tecnica, con la chirurgia specifica per quanto riguarda le altre strutture, le strutture scheletriche, le strutture tendine. Ad esempio le fratture, parlavamo prima delle fratture di polso, dalla semplice ingessatura si è passati alla sintesi della frattura in vario modo, sia con i fili di Kirsner, che sono delle sintesi temporanee, un assemblamento della frattura in una maniera più corretta possibile, non si veniva mai corretta al 100%, in certe condizioni ancora viene utilizzata oggi quando è possibile, se no veniva aperto il polso, venivano ridotte minuziosamente i frammenti della frattura del radio e poi si eseguiva la sintesi con delle placche. In alternativa venivano messi dei fissatori esterni, che si diceva davano una stabilità maggiore, ma si è visto che il fissatore esterno non è una grossa tecnica e non dà dei grossi vantaggi, dà dei grossi dispiaceri. La tecnica migliore è quella dell'applicazione delle placche, che ti permette di ridurre e di mantenere stabile la riduzione di questi frammenti e questo ti permette di muovere un po' più precocemente e di avere una funzione finale migliore rispetto a tutte le altre tecniche, sia con il gesso, con i fili di crisi, che con i fissatori esterni. Ci diceva prima che quando ci si rupe il polso si sente, vero? Quindi il dolore è evidente e si è perfettamente consapevole di aver fatto male. La frattura del polso di solito fa male, a differenza invece di una frattura di scafoide che talvolta non fa male, hai un trauma banale di polso e dici non mi sono fatto niente, mi fa un po' male e passerà. Invece una frattura di polso normalmente fa male, ma molto, e si vede di solito la deformità del polso. È raro avere una frattura di polso dove tu non hai male. Frequentemente si vedono delle fratture di polso dove il paziente ha male, fai la radiografia e non vedi il segno della frattura. Sono le cosiddette fratture intracorticali, che puoi vedere soltanto tramite un esame diverso che si chiama risonanza magnetica. Quindi, prima certamente, la radiografia talvolta non ti mette in evidenza queste fratture. Normalmente sì, le fratture di polso con la radiografia si vedono. Raramente no. L'opposto invece per quanto riguarda lo scafoide. Frequentemente fai una radiografia e non vedi la frattura dello scafoide, devi fare per forza una risonanza magnetica per vedere che c'è questa frattura, nella stragrande maggioranza dei casi. E queste ovviamente sfuggono alle valutazioni. Per poi dire anche che il polso non è formato solo dalle ossa, è formato dai legamenti che uniscono queste strutture. Se questi legamenti si rompono, come fai a vederli? Se c'è la frattura, lo immagini che ci possa essere una rottura anche dei legamenti. Se non c'è la frattura e non la vedi, non lo sai. È tutto un discorso che si deve fare su queste lesioni dei legamenti che di solito sono associate e il trattamento chirurgico talvolta è necessario, ma te ne accorgi soltanto strada facendo, durante l'intervento chirurgico per la frattura di polso, oppure dopo, una volta che la frattura è guarita, rimane questo danno legamentoso che devi trattare in un secondo tempo, in una maniera adeguata, è sempre possibile recuperarlo. E quando capita invece di farsi male alle dita, le dita della mano, una frattura a un dito della mano, uno dice, come faccio? La devo steccare o non la devo steccare? La leggo al dito vicino? Come mi comporto? Per esempio con una contusione che potrebbe essere una frattura del mignolo? È abbastanza banale quello che dice, non è proprio così. Allora ci sono delle lesioni semplici che sono i traumi distorsivi. Traumo distorsivo, fra virgolette, non vuol dire niente, vuol dire ti sei fatto male, hai danneggiato qualcosa e devi individuare questo danno. Frequentemente sono lesioni legamentose. La frattura del dito invece è diversa. La frattura del dito lo intravedi o lo vedi chiaramente da un accertamento radiografico. L'accertamento radiografico ti fa vedere la frattura e quando la frattura è composta c'è un trattamento selettivo di contenzione. La frattura è scomposta e devi cercare di ridurre questa frattura. Quindi la devi fare, devi sottoporla a un trattamento chirurgico di sintesi, un sintesi stabile per permettere una mobilizzazione immediata. La steccatura, come si dice, no, metti una stecca e lo tieni fermo, ecco, quello è un discorso che va precisato. Normalmente vedi una frattura di una falange distale con una stecca che arriva fino a qui. È uno brobrio proprio. Attualmente con l'associazione e l'avvento della riabilitazione della mano abbiamo modificato tutte le nostre teorie. Cerchiamo di mantenere la funzione completamente della mano e di tutte le strutture sane e cerchiamo di immobilizzare soltanto quella parte specifica che è danneggiata. Quindi quando c'è una frattura di una falange cerchiamo di immobilizzare soltanto il dito o parte del dito, non tutto il raggio o la mano o il polso a completamento della stabilizzazione di questa frattura del dito. Il dito è un dito, polso e mano sono tutta un'altra cosa. Quindi si cerca di immobilizzare soltanto quella parte selettiva. Lei è stato presidente internazionale per quanto riguarda la traumatologia nello sport per quello che riguarda la mano. Allora, mi faccio questa domanda. C'è un modo per prevenire infortuni? Giocare a pallacanestro, giocare a pallavolo? Chiaramente è una sollecitazione fortissima per esempio per le dita. Si può fare qualcosa per prevenire? Allora, bisogna farlo fin da piccoli. Bisogna cercare di istruire gli atleti nel ricevimento della palla, se parliamo della pallavolo o della pallacanestro, nell'intercettazione della palla nella pallavolo o anche nella pallacanestro, sempre con le dita in tensione. Se tu vai a rintercettare una palla con la mano morta, come si dice, lì è facile farsi male, perché ovviamente non sei in tensione, non mantieni rigida la struttura e il pallone o la mano contro mano può rompere qualcosa. Lo può rompere ugualmente, ma se sei ovviamente non attento a questa funzione, cioè rigido, teso, in protezione, è più facile farsi male. E poi, ovviamente, in certi sport, sono sport di contatto, come ad esempio il judo, come ad esempio il karate, il pugilato, è facile farsi male, cioè tu puoi essere il più preparato possibile, in certe condizioni non puoi prevenire questo danno, lo puoi solo sapere che ti sei fatto male perché hai colpito male o hai ricevuto un trauma alla mano in una maniera inconsueta. Normalmente però ti istruiscono, cioè ci sono gli istruttori che ti istruiscono nella ricezione, nel colpire, nella presa per cercare di non farsi male le mani. Se voi vedete gli atleti, sia della pallavola, della pallacanestro, del judo, della boxe, si incerottano, si fanno quei bendaggi. Infatti le volevo proprio chiedere questo. Ecco, questi sono a scopo protettivo o a scopo curativo per i traumi che ha ricevuto. I bambini che cominciano a fare lo sport si incerottano meno perché ovviamente è un gioco ludico, quindi qualcosa di semplice, banale. Ma mano mano che sali di categorie, sali di livello e cominci a diventare quasi professionista o semiprofessionista, ecco allora a questo punto gli infortuni magari crescono e allora per esperienza e per protezione e per tecnica devi per forza incerottarti perché sai che l'incerottamento è già qualcosa che ti dà una protezione, anche se minima è una protezione maggiore. Lei è stato anche cintura nera di judo. Allora, judo è uno sport, un'arte marziale che viene dall'Oriente ed è uno sport che è basato moltissimo anche sul rispetto reciproco dei contendenti e degli avversari, nonostante poi ce l'esidia di santa ragione e si debba mettere a terra per vincere l'incontro. Questa cultura, questa cultura dello sport sarebbe fondamentale in tutti gli sport, non solo in quelli che dovrebbero portare poi appunto a un vero e proprio combattimento. Cosa dice dottore? Il rispetto per l'avversario è fondamentale in tutti gli sport, deve essere così, però quando vai a fare la competizione e devi vincere e vuoi vincere, c'hai il rispetto ma devi vincere tu e quindi devi mettercela tutta per farlo, quindi vai al limite delle possibilità e talvolta gli incidenti capitano. Nel judo sono capitati degli incidenti drammatici, anche dei morti per traumi al collo, per traumi, per strangolamenti non contenuti. L'arbitro che è lì deve essere valido e presente e ovviamente sono esperti di judo che hanno finito la loro carriera e sono diventati arbitri. Lei fa l'arbitro? No, no, io non faccio più niente perché purtroppo ho dato come paziente anche dopo tante lesioni da judo ho smesso appunto di fare tutto. Vivo di ricordi ma mi piace seguire il judo e anche altri sport perché ne ho fatti tanti altri. È uno sport che consiglierebbe ai bambini? Sicuramente sì perché è uno sport che ti permette di capire qual è la tua capacità e soprattutto quello che dicevamo prima il rispetto dell'avversario. Sei tu contro l'altro e devi rispettare l'altro ma devi sapere quello che sei fare tu, quello che tu vali, ma lo metti subito in pratica perché lo capisci. E come vedete ogni volta che c'è un combattimento alla fine c'è il saluto, c'è il rispetto quindi nei confronti dello sport, dico lo sport, ma dell'avversario. Il rispetto dell'avversario anche se perde lo si saluta. Lei è un medico, tratta quindi la salute delle persone, molto pragmatico va subito al punto anche quando si tratta di individuare il problema di chi si rivolge a lei. Ma volevo tornare all'inizio della nostra chiacchierata. Quando lei guarda negli occhi un paziente che torna da lei con la mano che gli è stata riattaccata, cosa prova? Se è stata riattaccata e funziona, sono veramente contento. Se l'ha fatto qualcun altro sono veramente contento per l'altra persona che ha fatto questo ottimo lavoro. Il fatto solo di riattaccarlo è poco, bisogna vedere la funzione di questa struttura. Adesso come adesso che sono passati 40 anni da quel periodo che abbiamo parlato, del 79, dove io facevo questi rimpianti, i rimpianti se ne fanno tanti ma molto meno rispetto a prima. Come tutte le cose si parte con un entusiasmo enorme e si riattacca tutto. Poi si vede che quello che riattacchi qualche volta non è logico farlo, ma lo vedi solo col senno del poi. Quindi i rimpianti attualmente vanno fatti per il pollice, per l'indice, perché sono le due strutture che seguono. Se hai ad esempio cinque dita amputate, dai la preferenza pollice, l'indice al terzo dito. Se devi farne cinque, cerchi di fare le più importanti che servono. Se hai un dito amputato, in mezzo a quattro dita che funzionano, non verrà mai utilizzato quel dito, se non è perfetto al 100%. Più la lesione distale, più funziona bene. Più la lesione prossimale, meno funziona bene. Quindi ci sono tutti questi assiomi che noi sappiamo, che ovviamente teniamo presenti per la nostra esperienza e soprattutto per dare al paziente non un'illusione, ma una cosa reale, tecnica. Dici io te lo rimpianto perché so che te lo faccio bene. Non te lo faccio non perché non sono capace, ma perché non ti funziona. È inutile che te lo faccia. Sì, ma infatti la mia domanda era proprio riferito a questo, cioè all'arte medica. Quanto è fondamentale dal punto di vista del paziente? L'esperienza, ma soprattutto la soddisfazione, io credo, di trovarsi di fronte a situazioni nelle quali si è davvero cambiata la vita delle persone. Ha cambiato molto, anche dal punto di vista nostro, è cambiata enormemente la professione. L'arte, ad esempio, dell'artroscopia, che non si parlava, ma si accennava precedentemente, l'artroscopia è tutta un'altra tecnica di microinvasività all'interno delle strutture articolari per cercare di metterla a posto, trovare lesioni legamentose, trovare lesioni cartilagine, che rendono ragione del perché nel polso, nelle dita, nelle articolazioni c'è qualcosa che non va, il paziente dopo un trauma dice io ancora sto male, ma avete messo a posto un polso perché avevo una frattura, ma c'è ancora qualcosa che non va. L'artroscopia ci permette di aiutare a fare qualcosa di meglio durante l'atto chirurgico della frattura, ma ci permette anche di scoprire dopo che cosa c'è e di trattare queste lesioni. Quindi l'artroscopia è un'altra cosa che è venuta fuori dopo e che adesso ormai ha fatto il supicco, stiamo arrivando a trattamenti secondari e stiamo cercando di fare in artroscopia gli stessi interventi che facciamo a cielo aperto, con una tecnica ibrida si chiama, una tecnica di mini incisioni associata con l'artroscopia, possiamo fare degli interventi, quindi meno invasività facciamo sul polso, sulle strutture articolari, maggiore funzione noi riusciamo ad ottenere. Dottore, grazie, ne riparleremo senz'altro, la lasciamo perché sappiamo che l'aspettano già i pazienti. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a voi per averci seguito,